e anche quest'anno ho trovato il gioco horror da portare volevo portare granny 2 però fare sempre granny puzza quindi dobbiamo cambiare aria quindi ho trovato questo gioco qua l'ho provato giusto un mimo per vedere com'è giusto per non crepare subito avevo pure quasi vinto ma preso mentre uscivo praticamente quindi adesso direi già di iniziare mettendo modalità difficoltà incubo perché noi siamo non è vero mettiamo facile basta novizio che cos'è non ti spiega cosa c'è o cosa non c'è novizio mi sa che non c'è lei ma io faccio la prova se non c'è lei mettiamo facile c'è il mostro quindi vado in giro come un cretino vediamo se c'è se c'è allora vado in questo si vedevo di non perdere ma non c'è c'è ma si muove molto lentamente allora va bene poi altra volta avevo messo il normale OB io ho vinto perché ero avevo preso tutte 20 le sacche perché questo questo ah qui sono 6 e lì normale erano 20 in pratica ci sono delle sacche da prendere qua abbiamo già vinto ma non c'è una faccia qui veramente incontrabile abbiamo già 5 accetta abbiamo già vabbè avevo vinto stavo uscendo avevo trovato tutto a caso non arriva da dietro e ne ammazza ma l'avevo vinto un po' lento non ci voglio di guardare prendiamo l'ultima facca e basta così così andiamo a fare una difficoltà maggiore quando ci sono questi specchi vuol dire che è vicino a morire ok dovremmo aver fatto ma cos'è non vedo un altro gira 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 la vista non lo so aspettiamo perché se non aspettiamo muoviamo giuro qui mamma mia troppo lei c'è tutte 4 ore ad andarsene allora quello che ho capito è che lei non può entrare nelle stanze cioè come Granny non ci sono i nascondigli ok si è andata però lei non può entrare nelle stanze può andare cioè può entrare può entrare solo se ti vede ma di base l'intelligenza artificiale la fa solo Candy va beh dimenticate quello che avete visto non è successo nulla troppo facile rifacciamo non normale ma facile 12 sacche prima erano 20 ho fatto normale prima ho vinto perché io conto come se ero ero da valsamo per cliccare la porta va bene 6 abbiamo già vinto subito meno infacile se ci vinciamo pure facile proviamo anche il normale cioè voglio che a questo video ha almeno 20 minuti 2 dimenti che cos'è sono 20 e 12 siamo già a 3 abbiamo fatto un quarto già ma ci sono agli occhi comunque servono per vedere dove è lei la sua visuale nulla non so non ho capito nemmeno se gli oggetti spawnano sempre negli stessi posti o è randomizzato perché i giochi normali mettono randomizzato in modo che non è così facile capire dove uno è cioè perché uno altrimenti gioca sa già dove sono i posti e lo prende però bisogna che è randomizzato un po' qui c'è la corsa pure la corsa è lì però dura 3 secondi però va bene c'è il problema perché di caricarsi ci vuole un minuto e se vuoi che si ricarichi subito devi vedere la pubblicità perché giustamente questo è un giocatore di play ok qui è al lusso della mia stanza appena gira io passo si passo ci sono solo 3 piani 12 sa che ci sta ce la facciamo stiamo già a 7 si granny è in alto livello in difficoltà lì sclerato l'anno scorso un'ora per finirlo o di più io in realtà ve l'ho tagliato un bel po' un bel po' 20 minuti ve l'ho tolto forse non si notava nemmeno da come ve l'ho tagliato però l'ho tagliato ho tagliato ho tagliato quindi qui non taglio nulla perché la chiave è impossibile da trovare sopra sopra proprio il piano più su quindi sono a posto 9 di 12 mancano 3 mancano 2 mancano 2 dovremmo andare al piano di mezzo come arriva qui adesso mi sa che viene qua prendiamo questo qua ci sono giustati uno non so cosa sia uno di nuovo non so cosa sia fatto una sola parte il tuo rumore il tuo rumore non pensavo si nasse veramente il piano ma è un canchino è un muover vinto ok forse devo ammettere ho trovato un gioco un po' di merda non dura nulla c'è granny infacile dura un'ora l'altra volta per finirlo infacile io normale non ho ho fatto di nuovo adesso esco cioè non ho voglia di farlo tutto non mi manca cioè potremmo provare il livello 2 ma paga guardate so veramente cosa fare vabbè trovo un giochino di merda adesso l'horror da qualche parte lo facciamo ok ho trovato questo va bene ok tutto spero che questo sia decente perché quello di prima mi ha veramente deluso dai andiamo 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 linguaggio italiano qualità alta va benissimo difficoltà fantasma fantasma facile 6 vite 5 volte 5 volte più normale per il nemico qua si può più veloce il giocatore e spremio e spremio guarda io proverei e spremio facciamo così io faccio facile no andiamo così no andiamo così storia leggete voi non ho voglia di leggere tutto va bene in questo gioco parco 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 cosa dobbiamo fare questi sono i prezzi di giocare da mobile nasconditi cristo qui si fa nasconditi ma davvero lo devo capire eccolo a mo io esco perchè sono un cretino non è vero 3 ore più lento ancora scusa dai forte come si esce ok così ci si abbassa per interagire con gli oggetti anche qui ste sacche d'oro ah no forse non so se è la missione principale cosa devo fare non ho letto sono stupido vabbè ho letto solo la prima metà la parte più importante in generale ah ho capito forse devo trovare tutti gli oggetti vabbè vabbè un buon falto non so bene quello gioco però quello che la porta vabbè non so vai ah vai la chiave usa sta chiave ma che cazzo già finito mai e basta ma perchè volata vabbè non sono io per esigilare io non so niente di sto gioco eccolo cazzo su nero pomonco non sai cosa fare dopo usa solo oh un biglietto un biglietto un biglietto un biglietto un biglietto un biglietto dove è il treno il treno qui il treno il treno si fai rumore mi raccomando a me che non ci sente molto bene dopo la promessa è tanto così è qui ora in serie è questo non ti sciolto sono un bimbo mince oh ok adesso mi posso buttar giù ancora non si fa così mi stavo pure non so prendendo ma adesso mi dici tutte queste cose qui non ci si sponsorizza non ci vado posso vedere e cadi cadi bimbo sporzo di latte c'è tanto a sedere siamo non so dove cavolo sei mezzo al live quant'è fena la porta è chiusa cosa devo fare certo ah pure devi guardare il video ma io uno come tu non fai per cosa devo fare io non mi guardo il video non c'è l'altro ah posso nascondermi poterlo e oddio guarda il voto che hai preso il tuo asqua andiamo però non è normale ok l'utilizzo è si prova gli oggetti cioè un porto a modi grandi ma il gioco di prima aveva fatto 8 oggetti di spot e non si perde sentite un minuto riuscito vabbè dobbiamo iniziare pure stasca senti sto cercando così che posso pensare non lo so uso questo è una massa no mezzo bestia no 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 ma è veloce tutto il tristino che cazzo com'è mamma mia ancora ma non doveva essere lento che non ci vede tutto zotto ancora mi sono andato in faccia pensavo che fosse lento stato qualcuno mi giuro mi giuro il fico un pugno tutto l'interno ma non si stacca se mi nascondo secondo me mi vedo perché andiamo via a non me ne prendo no sì non mi sono mai che da fare ti costringe a guardare i video no io non guardo più video cacco di merda vabbè mi faccio prendere non so cosa fare sembra che si sia cagato addosso si è fatto la pipì dei pantaloni si è fatto del calzone dai prendimi salta salta ancora wow ah ma è da capo ho iniziato completamente no non ho iniziato completamente ho ancora i miei soldi ma io mi posso far uccidere quanto vuoi ma non avevo 6 vite se non avevo ma basta sto giocando con la scatola l'ultimo gioco lo so che si è trasformato da speciale horror a tre giochi di merda horror allora prima del gioco che state vedendo adesso ne ho fatto un altro ma non ve lo metto perché è veramente ancora peggio di quello là che abbiamo fatto prima cioè ho fatto un gioco escape room lasciate perdermi non ve lo metto più volevo metterlo e poi mettere ancora questo ma no è veramente veramente terribile già se il gioco inizia con la pubblicità parte malissimo secondo me parte proprio male forza ad 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 dappertutto su questo subito ad sempre ad che vuol dire pubblicità per chi non lo sa ma tutto elettrificato perché mi cago addosso dai ma che sta succedendo ma che cavolo è sto monco tutto che si muove male ma che si lascia la bambina dietro ma lascia la parola dai vai a fare roba vedi che differenza dai muoviti ok questo si muove pensavo saltasse come un ceppone di legno è fatto comunque male non ci sono manco le impostazioni dai come si fa a fare i giochi così male dove l'ha mi riesce a dare dalla batteria salta salta ha fatto il doppio salto raccomando lasciamo perdere corre ah ma devo una corsa infinita allora vabbè oh ma solo di corsa se ne frega ma si è già vinto vabbè è fatto a livelli eccolo 1v1 su clash royale qua vedo un mostro non si chiede nulla non gliene frega niente vabbè è tipo un po' così ho fatto di sfoga pesante vabbè intanto io seguo solamente i punti vedi è così che si fanno i giochi sapendo dove andare vero gioco del clown giusto oh sì non è che tu non sai dove andare per saperlo e vedere ogni volta la pubblicità dai buttati che è morbido non è morto io pensavo moriste ho detto vabbè vaffanque un gioco di merda invece no ancora vivo gioco fai fin da vosso ho trovato una spada dentro andiamo dentro lo vedo che è locked c'è l'assimile corre corre guarda qui è locked adesso quello faccio ripresa ti diamo tutto faccio marcio di qua almeno ti muovi veloce è un altro dispositivo di sfoga anche la grafica fa schifo il gameplay è ancora peggio non che gli altri fossero i medi però chiaro cosa corre abbiamo fatto 50 metri in 2 secondi e altri usain bolt cosa stancarti dove andiamo dove andiamo che cosa stanno facendo una chiave io non sto facendo attenzione a quello che prendiamo guardavo anche la chiave potremmo fare la chiave è aperta che cosa sta succedendo non me ne frega niente sto complicando la chiave è aperta è aperta la chiave ecco cosa bisogna fare prendi questa roba che prendi forza prendila dai non saltare prendi questo gioco mi sta stufando non succede nulla quando il timer qua che ho va a due minuti e se non finisce basta io non ce la faccio più dove cosa devo fare non ci siamo più? dai pre... non si muove deve... non basta prendere il stato mamma mia questo qua tutto con i piedi storti va bene dammi ecco sta cosa ogni volta nezzo pure mi fa storcere il lato a 90 gradi non poteva fare una cosa unica e basta vabbè lasciamo perdere uno ammazzato corre 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 questo qua martello sembra che vuoi ammazzare qualcuno spacchi in testa qualcuno vabbè dai corri cioè chi è che è 20 di una moto va questo tizio fa 200 chilometri orari sono correndo cioè fa 200 metri in 20 secondi ha fatto 200 metri in 20 secondi io lo stimo si è uno ad uno qua staccare e zappare dai zappo dai forza dacci le botte questo ammazzati qualcuno apri 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 vai corre 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 mi piace il fatto che il martello lasci il segno suo sulla porta almeno una cosa fatta bene gliela dico io la concedo no no tanto questo corra 2 mila ora orari dai stacca ok vai forza io finisco il gioco schifoso ma poi firenade non era gigante com'è che stava qui dentro prima l'ho visto era alto 20 metri perchè qui invece le cose cioè sto palazzo è alto 3 metri come può ma vabbè io non mi faccio domande cioè almeno credi è un buon gioco mi è piaciuto giocarlo questi sono veramente insopportabili non vedo l'ora di finirli non venire non lo spacca non ce la faccio mi sto per bollare oh mi sto incazzando ninja ok va 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 non mi scatta guardiamo no voglio vedere no sto addosso devo per contestare che devo fare se lo tocca no 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 è ancora giusto un altro martello un altro martello un altro dove l'hai buttato che vuoi che si io che lo zappo il tizio zappa il tizio ma come è che lo zappo lo zappo no 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 dai lo volevo zappare no non possiamo zapparlo non ce la faccio più non sto reggendo più devo buttare sto gioco via e basta aria aria cacchio ah sono lì stacca ah qua di andare stacca andiamo 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 vuoi che stacco anche voi stacca stacca la faccia stacca la faccia che faccia mamma mia bimba Ok, gli sta con la testa Abbiamo finito il gioco? Che devo fare? Dai, prendi le martellate Dai, dacci le martellate Ho preso già Dai Dai, da capo no, eh Ah, ok Sì, ma l'ho preso il martello Prendilo, prendilo Sì, ma che gioco di merda No, io sto per mollare Via Cioè, io lo prendo Mi dice, prendi di nuovo il martello Dada c'entro poi il tizio morente Il capo Baggiato a questa parte Dai, ma non muori Cosa che non devo fare La mia famiglia potrebbe darmi una mano, eh Come se chiedessi tanto Quale devo colpire? Dai, vado Oh Ma che ca... Adesso Let's get out of here Va bene Concordo Via Via sto gioco Non lo voglio più vedere Disinstallo tutti Sti giochi Non li voglio mai più vedere La mia famiglia non mi segue Nel frattempo Sono affichinati al posto Nooo No, io basta Ho ucciso il mostro e basta Oh mamma mia Poi ovviamente sarò sfortunato Sicuramente l'ha piazzato Del punto più lontano possibile Quindi è inutile che guardo qui La chiave Chi è che ha bloccato il mostro È totalmente intelligente E se il mostro era qui Perché non ho ucciso già la mia famiglia Prima che arrivassi io E se così debole È a morire per un martello Perché non l'abbiamo preso Pugli in tra... L'ultimo posto L'ultimo posto L'ultimo posto No Don, don, don Pauli Via, via, via Se non finisce qui Finisco solo il video Ancora Ah, la macchina si gusta Ah, devo guidare la macchina? Vado più veloce io a piedi Perché questo cosa arricchisce il gioco? Non mi sembra Vado più veloce io a piedi A piedi vado più veloce Sì, ma mi compargo negli alberi davanti Cioè, cosa so Ho un prestito dello scappo E stivare tutto Cioè, più da... Correndo Arrivavo prima E questa è una cosa pazzesca Cioè, preferirei uscire E mettermi a correre a gambe levate Sarebbe meglio Sì Ok No, non mi interessa Non mi interessa Non mi interessa Non fatti problemi Vai a casa Mangia un panino E basta Oh, grazie Oh, grazie To be continued Sicuramente Lo farò il continuo Fine 3 mod Proviamo Al volo Al volo proprio Se è un giorno Merda via Dai, sto filmato io Che dura troppo Non mi interessa Ok, basta Così mi sono scusato Cosa fanno? Che è sto gioco? Sì, a caso Still wait Continuando ad aspettare Io non mi aspetto più Vabbè, tanto Guardi, mezzo secondo 200 km Ah, ma è vero Gli alberi sono fatti male Non fatemi domande Per favore Basta, basta, basta Ok Per quest'anno va bene E ci vediamo Il prossimo anno Sempre No, il prossimo anno Cioè Avete capito Con un episodio uguale a questo Non uguale Magari trovo dei giochi migliori Ma Con lo stesso speciale Trovano Quindi basta Perché non ce la faccio più Sto gioco è terribile È vero Oppure la torcia Me ne sono pure dimenticato Ma è inutile Non cambia nulla Per questo video è tutto E ci si vede Alla prossima volta